Oh, 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 Matteo, ma che macchina prendiamo? Non lo so che macchina prendiamo. Ma il Mustang? Dove è finito il Mustang? Il Mustang non ce l'abbiamo più. Ormai siamo broke. Il Mustang è inverno, non possiamo andare in. Allora, gippazzo arancione. Gippazzo arancione. Io voto il gippazzo arancione. Io invece voto questa macchina. Io voto questa macchina qua, questo gippazzo malato qua. Questo è un cesso. Sì, ma chi se ne frega, bella. Questa sembra la camionetta con cui... Beh, questa è quella cattivissima. A me questa piace. Sembra la camionetta dell'esercito con cui ci portano via i criminali. Vediamo questa. Incredibile. Sì. Grazie a tutti Oh ragazzi lo so che sembra banale perché l'abbiamo già detto mille volte però è la verità venire agli eventi ti cambia la vita Te la sconvolge! Il problema qual è? È che non è ancora finito l'evento e già hai voglia di tornare a casa per lavorare ok? Cioè quando tu vai in vacanza normale cioè per staccare da una vita che non vuoi vai in vacanza e poi ti sei dispiaciuto quando te ne devi andare via invece quando vieni a questi eventi e ti fai una vacanza mista business ma vieni in un posto così raccogli delle idee degli schemi delle strategie non vedi l'ora di andare a casa per metterti a lavorare 24 ore al giorno per spaccare e per portare il business al next level esatto ma in questo evento purtroppo ragazzi non c'era nessuno quindi adesso torniamo in questa sala piccola ciao Ciao ragazzi siamo qui a Las Vegas con il nostro caro amico David Brownlee! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi abbiamo il piacere di passare un po' di tempo insieme e che dire David è veramente gasatissimo e super carico per l'evento di Marketing Genius a Roma adesso vi farò una domanda una serie di domande importanti David sei carico? Ciao! Ciao! Siamo in particolare! Qualc'è a che fai andare a Roma? Siamo in particolare! Siamo in particolare! Siamo in particolare! Siamo in particolare! Quindi cosa stai portando alla nostra comunità? Qual è il tuo obiettivo? Cosa stai portando con noi? Cosa stai portando a questa comunità in cui un'attività che abbiamo? Sì, prima di tutto grazie per avermi invitato a me, perché mi piace andare in Italia e la calma dell'Italia, la passionazione e quindi grazie da il bottom mio heart Il mio piacere, il mio piacere. Questo sarà un'ottima. Ci sono tre cose che voglio che il tuo pubblico abbia. La prima cosa è la mente. Ho lavorato con un uomo con Tony Robbins per un paio anni. E una delle cose che ho appena appena di Tony è che 80% del successo in cui si sta in mente e 20% sono le capacità. Lo che voglio portare è che se hai un sogno e hai qualcosa che vuoi andare per, bisogna prendere la mente per assicurare che il tuo mente sia in alineamento con quello che vuoi comprare. E' la prima cosa è la prima cosa. La prima cosa è la prima cosa. La seconda cosa voglio portare sono le realizzazioni. C'è come creare le relazioni con i clienti. in modo che i clienti e i clienti vanno fare un negozio con i clienti. Come creare le relazioni con i clienti? Si! In modo che i clienti vengono per te. Come creare le relazioni con i clienti? Come creare le relazioni con i clienti? E ci sono alcuni semplici, che sono molto semplici per fare. Ma voglio assicurare che sappiano questo. E la terza cosa è che voglio dare loro un'esperienza. E uno dei miei piacere preferiti... Un'esperienza! è Maya-Angelo. E lei dice che le persone sperimentalmente ci sono detto. Meccale Angelo! Ma non mi interagire. Ma io voglio che i clienti dimenticheranno quello che dici, ma non mi interagire. E le persone dimenticheranno quello che dici. Ma le persone dimenticheranno quello che dici. Ma le persone diimenteranno sempre ricordano come hanno senso. le strutture, posso creare i miei sogni e capire i miei obiettivi, e questo è quello che voglio veramente. Grazie, ragazzi, io non vedo l'ora di ascoltare Davide, hai anche un po' di share la tua storia con noi? Assolutamente, assolutamente, perché ho una storia molto forte, Davide ha una storia veramente, veramente pazzesca che non vede l'ora di condividere con tutti noi. Grazie, ragazzi, non ho l'esperto di vedere te in Roma, te anche, ciao ragazzi, a presto! Evo, Evo, Evo! Hands up in the air, up to the sky! Evo! Evo! Evo!